In questo video vado ad escriverti uno dei miei elementi preferiti, è un elemento di speed endurance e parliamo del 6x150 metri con 6 minuti di recupero. Nel elemento di speed endurance, come abbiamo già visto nel video appunto in cui abbiamo parlato direttamente della speed endurance, andiamo a lavorare in debito di ossigeno, quindi lavoriamo e alleniamo il nostro corpo per abituarsi a correre in debito di ossigeno, alleniamo il nostro organismo e il nostro corpo a correre con l'acido latico nel legame, l'acido latico che si accumula poi di prova in prova. Quindi questo allenamento è una delle cose importanti per questo allenamento, è di cercare di fare tutte le prove nello stesso tempo. L'intensità andiamo al 90% e deve essere praticamente la stessa velocità o quasi che tu tieni nella partenza, nei primi 150 metri dei 400 metri. È un elemento abbastanza pesante, deve arrivarsi relativamente fresco per poter sopportare, per riuscire a correre bene questi 150 metri. Ti provo in prova sarà un po' più difficile solitamente, alla seconda, terza e quarta prova ci si sente bene e poi le ultime due prove sono quelle un po' più faticose da stringere un attimino i denti. La cosa importante è cercare di correre sciolti e tecnicamente bene per tutte le prove, soprattutto le ultime prove in cui si comincia ad essere affaticati ed è proprio qui che dobbiamo imparare a correre bene. Se impariamo a correre bene in questi elementi, in queste ultime prove, poi ci verrà più naturale correre bene anche nell'ultima fase dei 400 metri dove anche se la fatica arriva, l'acidolatico sale, le gambe sono piede e l'acidolatico è tutto il corpo. L'obiettivo deve essere quello di correre semplicemente sciolti e facili. Facili a dirsi, più difficili a farsi, si può imparare. Con questo ti auguro buon divertimento, con questo allenamento e ci vediamo al prossimo video. Ciao!